Chiamo sindrome di Siracusa l'ideologia oggi largamente egemonica che demonizza ogni passione politica di tipo filosofico volta a governare, a orientare e a mutare l'ordine degli eventi e l'ordine delle cose. Sindrome di Siracusa in che senso? In riferimento evidentemente alla vicenda platonica a Siracusa. Il filosofo Platone tentò concretamente di rendere pratica e operativa la sua filosofia politica cercando l'appoggio del tiranno siracusano e alla fine si vide costretto a riconoscere il fallimento del proprio progetto filosofico di governo del mondo, progetto che oltre che nella Repubblica è ben suffragato nella settima lettera platonica in cui si dice che i filosofi devono governare il mondo, che il buon governo è quello in cui sono i filosofi ad avere il potere. Ora, l'odierna ideologia dominante è quella che neutralizza ogni vocazione filosofica a governare l'ordine del mondo assumendo la vicenda platonica, cioè il fallimento siracusano, come necessario esito di ogni tentativo filosofico di cambiare o di governare politicamente il mondo, come se appunto la filosofia dovesse occuparsi perennemente di altro rispetto alla politica e al tentativo di cambiare le cose politiche di questo mondo. L'ideologia oggi dominante è quella che spoliticizza la filosofia riducendola o a chiacchierà per semicolti o a festival irrilevante o a serenata per lo status quo o a pura scienza valutativa del reale, riconducendola quindi al registro delle scienze naturali. Insomma, l'ideologia è quella che neutralizza la filosofia e la sua naturale, vocazionale, passione politica volta a cambiare le cose. Oggi la vicenda platonica a Siracusa è diventata l'emblema per le ideologie dominanti della necessità di tenere a distanza la filosofia dalla realtà politica. Laddove invece la filosofia, come mostra bene la vicenda platonica, ma in fondo come mostra tutto il canone occidentale, è intrinsecamente politica, perché la filosofia nella sua determinazione più ampia si caratterizza per essere una conoscenza della totalità, una sua valutazione assiologica e una sua conseguente trasformazione pratica qualora la totalità non corrisponda alle proprie potenzialità. La sindrome di Siracusa è quella che appunto demonizza ogni passione utopico trasformativa della filosofia e la fa esistere nelle forme rassegnate e disincantate del puro rispecchiamento inerte dell'esistente. Io credo a questo proposito che occorra reagire contro questa ideologia dominante e riproporre la naturale vocazione filosofica politica del sapere filosofico volto a proporre ulteriorità nobilitanti a trasformare l'esistente finché appunto esso non sarà pienamente razionale.